Allenarsi per il futuro è il progetto che Bosch sta sviluppando a Bari e sul territorio italiano per promuovere il sistema di alternanza scuola-lavoro. Qual è possibile soluzione per diminuire la disoccupazione giovanile? I dieci studenti del Cuccovillo si aggiungono agli altri dieci che hanno intrapreso il primo ciclo nel mese di ottobre dello scorso anno. L'intero percorso formativo di durata biennale si ispira al sistema di alternanza scuola-lavoro tedesco con l'avvio del secondo ciclo del corso post-diploma per il raggiungimento della qualifica di tecnico superiore per la produzione. Altri dieci studenti avranno l'opportunità di allenarsi presso l'officina laboratorio a loro interamente dedicata e realizzata all'interno dello stabilimento Bosch di Bari. Il progetto prevede l'alternanza di formazione di base e trasversale realizzata presso la sede dell'ITS a quella più specialistica ed applicativa realizzata negli spazi dello stabilimento. Questa formula consente di sviluppare competenze specialistiche nei giovani che poi servono a combattere il loro nemico più grande, la disoccupazione, e permette anche alle imprese di accedere a queste competenze giovani ed eccellenti.